Mononous, orsacchiotto mio, dici buongiorno a papà, le caffè. Che è? Che è? Che è? Che è noio, dormire tutta sola in quel letto, no. Ma che ore sono, amore? Sono le nove meno dieci. Ma le nove meno dieci è l'alba per un musicista, dai, è come se mi avessi sbagliata le tredde notte. Che mi devi dire ai tredde notte? Che mi devi dire? Vai a giocare fuori, che mamma e papà vogliono stare un po' da soli, vogliono coccolarsi. Mi reciti in questa posizione. La posizione del morto di sonno, qual è? No, io sono più poetica, è la posizione di quel po' di guerrier. Oh, ça va, hein? Ça va. Oh, même le matin. Insupportable. Sì, sì, ancora. Legami, legami, ti prego, legami. Che tempo, dai, dieci dalla mattina le lego, ma facciamo di sì la stessa cosa, dai, dai. C'è tutto, sì, legami. Ma non ci sta nemmeno lo spago, dai. Oh, no! L'abbiamo finito. Che è il vincario de bovlei. Oh, no! No! No, basta. Reprenno. Oui. Reprenno. Ripetelo. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.